Come preparare piatti gustosi, innovativi e della tradizione? A partire da domani, mercoledì 19 giugno e fino alla fine d'agosto, prende il via la nuova iniziativa editoriale del quotidiano Il Centro. Pasta che passione che permetterà ai lettori di ricevere gratuitamente, insieme al giornale, anche un'opera imperdibile. 30 schede realizzate in materiale antimacchia che saranno in edicola nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì per 10 settimane consecutive, fino a fine agosto. 30 schede con 58 ricette da inserire nel comodo raccoglitore, anch'esso gratuito, Luigi Di Fonso, che ha effettuato una meticolosa ricerca. Abbiamo voluto scegliere un po' quella che è la parte principale di tutto quello che è il pasto, il pranzo delle famiglie, delle persone, perché spesso accade che uno o cucina sempre la stessa pasta, la stessa minestra, oppure magari non ha idea. Ecco, abbiamo pensato di riportare la gente a tavola, a casa, in cucina, per così provare a cucinare anche altri tipi di pasta. Ce ne sono veramente tanti perché abbiamo fatto 58, quasi 60 ricette in queste 30 schede che usciranno ogni lunedì, mercoledì e venerdì, a partire da domani fino al 26 agosto. Quindi non ve le perdete, soprattutto quelle di domani, perché domani insieme alla prima scheda ci sarà il contenitore di tutte e 30 le schede. Ricordiamo il tutto gratuito, sia il contenitore che le schede. Sì, sì, basta acquistare il centro, andare in edicola. Una vera e propria ricerca iconografica da parte di Sabrina De Nobili. Sì, perché abbiamo voluto fare un prodotto anche bello da vedere, quindi le foto sono molto curate, anche la grafica, i colori, e poi è anche un buon prodotto dal punto di vista proprio tecnico, perché le schede sono fatte su una carta verniciata, per cui usandole in cucina può capitare magari uno schizzo d'acqua, di olio, si possono pulire e rimangono sempre belle, perfette, come le vedete. Un'iniziativa deliziosa è il caso di dire. Sì, anche perché abbiamo veramente tantissime ricette, sia quelle da fare diciamo un quarto d'ora, quindi abbastanza veloci, sia quelle un po' più strutturate, magari con un po' di fantasia. Ci sono sia le ricette tradizionali e anche quelle un po' rivisitate, con qualche idea particolare per dare quel qualcosa in più.